Benvenuti, sono Max Maria Traversone di Raiffeisen Capital Management e vi parlerò del fondo Raiffeisen Conservativo. Raiffeisen Capital Management ha una delle competenze chiavi nella gestione obbligazionaria, partita nel 1985 col Fondo Obbligazionario Europeo. Nel 2010 ha lanciato i primi obbligazionari flessibili e nell'agosto 2011 è nato il nuovo fondo Raiffeisen Conservativo. Quali sono le caratteristiche di questo fondo? Prima caratteristica, massima diversificazione. Il fondo investe in maniera diversificata in tutto l'ambito obbligazionario, ad esclusione delle convertibili. Seconda caratteristica, flessibilità. Questo fondo non ha benchmark e il gestore è libero di muoversi in maniera indipendente su tutte le classi di attivo. Terza caratteristica, innovazione. Questo è il primo fondo obbligazionario di Raiffeisen che implica una gestione di tipologia rispariti. Quarta caratteristica, il fondo non ha un obiettivo di rendimento ma ha un obiettivo di volatilità nell'ordine del 2-4% per anno. Quinta caratteristica, strategie di protezione. Il fondo può utilizzare il cash come protezione che può arrivare fino a un 50% del portafoglio. Per costruire questo fondo partiamo da 5 pilastri. Primo pilastro, obbligazionari governativi e inflation. Secondo pilastro, obbligazionari corporate, area euro e globali. Terzo pilastro, obbligazionari high yield, area euro e globali. Quarto pilastro, emerging market hard currency. Quinto pilastro, emerging market local currency. I cinque pilastri vengono gestiti secondo un approccio di parità di rischio. Cosa significa? Significa che nella distribuzione del rischio questi cinque pilastri hanno lo stesso peso. Quindi se il rischio governativo è basso, l'esposizione sui governativi sarà alta. Viceversa, sull'emerging market local currency, avendo alta volatilità, l'esposizione sarà bassa. Dopo questo primo step, il secondo step è allineamenti tattici. Cioè vengono presi questi cinque pilastri e vengono applicate delle strategie di breve periodo su questi pilastri affinché il portafoglio disponga di una gestione attiva. Se la volatilità del portafoglio, implementando questi allineamenti tattici, sfora il 4% di volatilità obiettivo, viene utilizzata la liquidità per anacquare la volatilità del portafoglio e riportarla entro i parametri obiettivo. Questo fondo quindi si compone nella sua gestione di tre fasi. Prima fase, definizione dei pilastri e approccio rispariti di distribuzione del rischio sui cinque pilastri. Strategie che lavorano a 1-3 mesi di breve periodo e utilizzo del cash per moderare la volatilità. Questo fondo è partito nell'agosto 2011 e ha avuto un rendimento sui tre anni intorno al 5% con una volatilità del 2,8%. Fate conto che questo prodotto, il nostro obiettivo di lungo termine di questo prodotto, offrì un rendimento tra il 4 e il 5% con una volatilità intorno al 3%. E quindi cercando di riepallegare il concetto del conservative potremmo paragonare il conservative a un'autovettura dove il processo di investimento è il motore dell'autovettura, i rispariti, le sospensioni e quindi la distribuzione del rischio e quindi la distribuzione del peso della macchina sulle quattro ruote e le strategie di protezione del cash come l'airbag dell'autovettura. Con questa metafora vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.